E' il giorno di Taranto Potenza, tutto pronto per la sfida dello Iacovone in programma questo pomeriggio alle ore 18.30. Partita fondamentale soprattutto per i padroni di casa chiamati a vincere per consolidare la posizione alta all'interno delle griglie a playoff. Capuano senza panico squalificato e Ferrara infortunato, ma alla lista degli indisponibili potrebbe aggiungersi pure Mastro Monaco, non al top della condizione. Da valutare anche diversi interpreti del reparto d'attacco su tutti Canutè e le due prime punte, vale a dire Simeri e De Marchi. Non è da escludere quindi che il tecnico passi al 4-3-1-2 attenuando così l'emergenza fasce, viste le concomitanti assenze di Ferrara e Panico. Ultima chance o quasi per il Potenza di rientrare in zona playoff considerando anche la sconfitta del Foggia nell'anticipo del venerdì contro la Casertana. Solito 3-5-2 per Marchionni che in avanti allo Iacovone proporrà il tandem offensivo composto da Caturano, ex di turno e Volpe. Candellori in mediana insidiato da Schiattarella nei tre di difesa, spazio a Ristov affiancato da Armini e da rientrante Maddaloni.